Abbiamo il completamento del programma delle relazioni e nel pomeriggio abbiamo innanzitutto nei limiti di quello che siamo riusciti a fare un ringiovanimento dei relatori, cioè abbiamo meno persone che hanno visto Steve Jobs, hanno toccato il primo Macintosh, eccetera, e più persone che invece vivono la loro vita nel solco della storia di cui Steve Jobs è stato uno dei protagonisti. In particolare abbiamo pensato di invitare qui due figli di una delle esperienze più interessanti nel mondo dell'interaction design che abbiamo avuto in Italia, che si è conclusa drammaticamente troppo presto, ma che comunque ha prodotto dei fatti. Noi abbiamo avuto per alcuni anni a Ivrea un istituto che si chiamava Interaction Design Institute Ivrea, che ha rappresentato in Italia un polo di competenza nel campo delle tecnologie innovative e delle tecnologie in cui il design incontrava l'ingegneria molto significativo. Allora il primo di questi è Mark van der Becken, lui è come notate fiorentino, e quindi dovete capire bene il dialetto fiorentino per poter, il nome lo dice chiaramente, e quindi dovete capire bene il suo dialetto per capire, ma parla il fiorentino. Prego Mark. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie a Giorgio per invitarci. Sì, io voglio dire qualcosa, un po' come testimonio. Allora non ho preparato una presentazione qua con grande schermo, perché soprattutto non so neanche scriverlo bene in italiano, allora ho voluto evitare delle figuracce, delle problemi di ortografia, eccetera. Ho voluto parlare sulla nostra storia, sul rapporto con, una, la realtà olivettiana, e due, la realtà di Silicon Valley americana. E poi individuare anche qualche punti su cui abbiamo avuto dei vantaggi, dei problemi, essendo qua in Italia, e qualche consiglio per portare avanti. Allora noi, come diceva prima Giorgio Di Michelis, abbiamo un'esperienza, siamo arrivati in Italia nel 2001, o io sono arrivato insieme con altri stranieri all'interaction design, a una struttura nata dentro Olivetti, che si chiama Interaction Design in Sudivrea. Lì ho conosciuto, in giugno del 2001, ho conosciuto Stefano Mirti, che parlerà dopo di me, e anche un socio con cui ho creato poi l'azienda Experienzia, Jan Christoph Zolls, che è tedesco, io sono belga di origine. E a Ivrea abbiamo anche conosciuto i due altri soci, Michele Visciola e Pierpaolo Perotto, con cui abbiamo creato questa realtà. Magari, visto che ci sono un bel po' di persone che non sanno molto sull'interaction design in Sudivrea, ti trucco un po' brevemente cos'era. Allora, era una struttura fondata da Franco De Benedetti e Roberto Colanino, con lo scopo di portare avanti l'idea dell'interaction design tramite formazione di alto livello e ricerca. Allora, ogni anno venivano selezionate 20 persone, intorno a 20 persone, a fare un programma di interaction design di due anni, era un master, e venivano selezionate da tutto il mondo. Allora, avevamo indiani, americani, francesi, tedeschi, inglesi, eccetera, e anche i professori erano da fuori. Allora, la lingua era l'inglese, e facevano un anno un programma di corsi con brevi progetti di ricerca applicata, spesso con aziende italiane o aziende internazionali, tipo Telecom Italia, Fiat, ma anche Alcatel e Itachi. e poi il secondo anno era l'anno di Tesis, nella quale lavoravano su progetti più lunghi. Ogni anno c'era una celebrazione, ovviamente, dei risultati, e adesso le persone che hanno lavorato lì lavorano o per grandi aziende, tipo Microsoft, IDO, Nokia, eccetera, o hanno creato i loro studi, o insegnano, o lavorano nel non-profit per anche creare un cambio sociale, un cambio più sostenibile. In 2004, io e Cristofo e io abbiamo iniziato a parlare sulla creazione di un'azienda sulla user experience e sull'idea di congiugare l'idea della ricerca, o il tema della ricerca, sull'utente con il modello dell'interaction design. Ne abbiamo parlato poi anche con i soci italiani che poi in luglio 2005 abbiamo creato questa azienda in Italia, con base a Torino, e adesso siamo più o meno a 35 persone che ci lavorano con noi e lavoriamo dall'inizio molto a livello internazionale, perché ovviamente non so quale età avevano le persone stamattina, ma anche noi non siamo così giovani e quando avevamo creato l'azienda avevamo già comunque un'esperienza ben ampia nel settore. nel settore allora potevamo subito agganciarsi anche al cliente internazionale e abbiamo negli ultimi anni lavorato e adesso ancora stiamo lavorando con Samsung, con Intel, con Logitech, con SAP che fa business software, con Alcatalus eccetera. L'azienda come dicevo crede nella filosofia che per creare prodotti e servizi che hanno un componente tecnologico dentro si deve veramente sviluppare una user experience forte e per avere una user experience forte si deve conoscere in modo profondo i comportamenti delle persone il il bisogno il contesto di lavoro di piacere e qual tema può essere delle persone. Allora spesso siamo chiesti da grandi aziende spesso di per esempio vogliono sviluppare un nuovo concept per la cucina o di elettrodomestici o un nuovo concept per la per la televisione di andare a vedere come la gente adesso vive la cucina qual è la cultura del cibo la cultura della nutrizione dei prodotti che vengono utilizzati nella cucina per esempio per il tema di elettrodomestici per poi sviluppare concept e prototipi di nuovi prodotti nuovi servizi collegati a quel tema che ho chiamato per esempio la cucina allora diciamo che adesso abbiamo 35 persone la metà più grande delle persone che ci lavora da noi è italiano e l'altra metà viene da tutto il mondo e diciamo che un terzo più o meno ha background o 40% ha background in scienze cognitivi scienze sociale antropologia sociologia e quei ambiti lì per fare la ricerca qualitativa sull'utente e poi l'altra metà ha un background in interaction design interface design architettura di informazione e prototipazione e poi ci sono i soci e ci sono l'amministrazione anche un po' business development eccetera project management noi siamo nati in una cultura che è ovviamente molto diversa da quelli di Apple e diciamo come radici culturali siamo molto più vicini alla cultura olivettiana uno perché c'è questa storia di interaction design ivrea due perché anche concettualmente l'idea di congiugare dentro un'azienda italiana il design con la tecnologia e farlo in un modo molto umano centrico era un'idea che prima ancora di Apple era veramente presente dentro la cultura di Adriano Olivetti leggendo il documento non so se avete voi visto il documento scritto da Giorgio su Steve Jobs e sulla cultura Apple stavo riflettendo ma cos'è veramente la cosa che ha fatto Apple in azienda forte io ho seguito un po' i discorsi recentemente su il design driven approach e user centric e secondo me di più che ci ne penso di più lo trovo una discussione un po' non falso ma un po' besides the point perché secondo me le due elementi forti che ha fatto diventare Apple una grande azienda è uno è si sono sempre concentrati su i comportamenti delle persone non hanno fatto la ricerca come la facciamo magari noi ma la persona i suoi comportamenti e sviluppare prodotti che sono pensati per il comportamento delle persone e che anche indirizzano il comportamento delle persone è un fattore di base noi lo chiamiamo la user experience ma è un modello diciamo non solamente technology driven ma driven tramite un approccio comportamentale anche psicologica e è interessante che adesso stavamo anche parlando durante il pranzo che le aziende che stanno seguendo questo modello di behavior driven design soprattutto nei prodotti tecnologici non sono più aziende italiane sono aziende come nest che ha fatto questo termostato intelligente un'azienda come instagram che non è un'azienda che è brillante per la sua tecnologia per la sua innovazione tecnologica ma è brillante per il design e la psicologia dei comportamenti che sono progettati e l'altro aspetto secondo me che Apple ha fatto veramente bene è quello che noi chiamiamo la crafting della experience loro sono non accettano mai una esperienza metà progettata mai esagerazione perché non so se qualcuno ha visto l'interfaccia dell'Apple TV ogni tanto c'è qualcosa che non lei l'ha visto ogni tanto c'è qualcosa che scappa ma in generale fanno un'attenzione molto dettagliata all'esperienza non solamente concettuale ma anche nel dettaglio della fisicità e della progettazione dell'esperienza e questo è un valore che altre aziende non sanno copiare questi due aspetti perché l'innovazione in altri ambiti e noi lavoriamo con aziende anche come Samsung e con altri e l'innovazione in queste aziende è ancora visto soprattutto come innovazione tecnologica e stanno cercando di sviluppare nuovi modelli tecnologici che poi alla fine devono anche avere la user experience e poi ogni tanto vengono da noi per aiutare queste aziende e questo crea problemi ovviamente perché la user experience non è mai ben progettata o non è mai progettata a livello che può progettare un'azienda come Apple ci sono esenzioni come per esempio dicevo prima Neste Instagram e l'app di Job ma le grandi aziende altre grandi aziende nel settore di ICT e di consumer electronics hanno problemi con questo approccio la cosa che volevo dire è che e questo è un elemento l'approccio sull'innovazione stesso e anche la comunità europea che crea tanti strumenti per innovazione ha un approccio tecnologico technology driven che filtra anche dentro il contesto italiano che crea un sistema di ricerca di università e di aziende dove l'approccio all'innovazione è soprattutto un approccio tecnologico il design driven o un approccio behavior driven è poco presente anche in Italia siamo nella settimana del salone del mobile e io vedo un contesto dove c'è di un lato il mondo del design che soprattutto in Italia è ancora product design e styling e dall'altro lato molto lontano c'è il mondo dell'ICT e in realtà che ha esistito in Italia olivettiana la cultura olivettiana ormai non c'è più anche aziende tipo che lavorano su elettrodomestici o prodotti per la domotica che sono molto presenti storicamente in Italia non hanno creato non sono stati in grado di creare prodotti come Nest ed altri quando si parla su Apple si deve anche parlare sul contesto in questo articolo di Giorgio c'è l'aspetto di l'organizzazione e non devo dire che anche sui grandi elementi sono d'accordo su qualche elementi di cultura trasparente magari non totalmente perché non era così ci sono molti secreti anche dentro Apple ma il contesto in cui un'azienda lavora è molto determinante per la crescita dell'azienda in California ci sono università ci sono altre aziende c'è una cultura di interaction design molto forte c'è anche la stampa che promuove un certo discorso e poi c'è un mondo politico che è meno forte meno presente che qua poi ci sono i venture capitalists che per Apple magari sono stati meno presenti ma anche lì è una cultura molto diversa di qua Stefano parlerà sull'aspetto di venture capital e di come creare una nuova realtà in Italia e come non se non si può copiare direttamente quello che viene dal Silicon Valley a qua in Italia noi abbiamo da fare con una realtà italiana dove è per noi difficile trovare designer competenti spesso dobbiamo andare all'estero per fortuna c'è il Politecnico di Milano nel quale possiamo prendere un po' di service designer c'è la UAV a Venezia ma non ci sono veramente programmi forti di interaction design di interface design in Italia da cui possiamo prendere dei giovani per lavorare da noi noi abbiamo un'azienda dove l'età media delle persone che lavorano da noi è 28 29 sono anche orgoglioso del fatto che diamo lavoro a tanti giovani in un momento in Italia si lamenta su quel fatto e che i nostri stagisti tra l'altro sono pagati ma ci deve essere anche un sistema di scuole di università che può sostenersi e che può fare progetti con noi ogni tanto ci sono realtà per esempio con Politecnico Milano adesso nelle ultimi due anni anche a Torino e a Piemonte dove siamo basati iniziano a esserci un po' di supporto anche a livello di ricerca e allora Giorgio mi ha chiesto di pensare un po' su cosa vogliamo cambiare in Italia e ok non posso non ancora dirlo introduco il tema che è lavorare sul tema della formazione e delle scuole non può essere fatto solamente dall'azienda poi c'è anche l'aspetto del tessuto locale istituzionale adesso in Italia si parla molto su smart cities e il tema di tecnologie smart nelle città ma abbiamo nel stesso momento anche da fare con un sistema politica locale e regionale io parlo per Torino e Piemonte dove quelli che prendono le decisioni su quei temi non sono di una generazione di modelli culturali dove la partecipazione non è veramente vista come valore ma più come minaccia e allora su quel tema dobbiamo anche cercare secondo me lavorare molto vedo che ci sono un bel po' di giovani qua come possiamo tramite attività bottom up tramite rete io seguo anche un po' su cosa succede per esempio con il progetto Rena con altre realtà come possiamo creare l'humus per cambiare una cultura partecipata perché io credo anche che in Italia uno dei valori molto forti venendo da fuori è che c'è un tessuto sociale molto interessante molto fertile e c'è una cultura di fare le cose anche in modo informale le vedo anche a Torino che è una cultura su cui per esempio tutto il movimento Slow Food si è basato come possiamo rendere questa cultura anche un strumento forte per l'innovazione e poi un terzo tema che noi vediamo è che le media in Italia parlano poco su aziende come la nostra e a Torino di nuovo vedo una situazione dove parlano sulla Fiat parlano di San Paolo due poteri forti a Torino poi parlano sulle aziende in difficoltà tipo Pininfarina eccetera ma non parlano su nuove realtà e conosco un po' di realtà interessanti a Torino c'è un'azienda per esempio che si chiama Delta 3 che fa che ha 350 persone ne ha assunto 50 solamente nell'ultimo anno che fa tutto diciamo sistemi di data e di visualizzazione di data per eventi sportivi per UEFA per la FIFA per NBC per Sky eccetera lavorano tutti in mondo ma io l'ho conosciuto per casa perché nei giornali nei rivisti non ne parlano mai e allora anche lì possiamo secondo me trovare altri modelli soprattutto tramite internet per creare una conversazione positiva su quello che sta succedendo in Italia e per anche far vedere far mostrare altri modelli di fare di fare innovazione e non solamente quelli negativi le persone sono in difficoltà devono essere licenziate e per i giovani italiani non c'è più in futuro in Italia devono andare all'estero non è vero o non è totalmente vero diciamo e mettiamo un po' più in evidenza quello che sta succedendo in Italia in modo positivo la sostenibilità il terzo tema dell'articolo di Giorgio è per noi un tema molto importante su cui l'Italia tra l'altro ha molto da dire è vero che per Apple la sostenibilità è soprattutto una sostenibilità di design e di economia e non la sostenibilità di ecosistema o ecosistema per tutti noi ma ecosistema soprattutto per loro noi troviamo che un diverso un modello diverso di pensare il design e anche l'interaction design experience design su cui lavoriamo noi si sta diffondendo persone con cui abbiamo lavorato a Ivrea tipo John Thacker che è anche conosciuto qua e si sta spendendo molto per questo tema e troviamo che tramite approcci del service design quella cultura di sostenibilità di ecosistema si sta muovendo la user experience quando eravamo un'azienda di quattro persone nel 2005 era un tema di mobile e di web adesso la user experience è diventato un tema che è pervasivo ospedale treni cruscotto della macchina addirittura l'architettura e per quello stiamo stati chiesti due anni fa per partecipare a una gara internazionale a Helsinki con ingegneri di Arup con architetti Saabruchhutten per creare un quartiere ecosostenibile perché l'idea era non dobbiamo solamente lavorare su diciamo i tubi e l'energia e materiale dell'edificio ma anche sui comportamenti delle persone e lì vedo anche tante possibilità per per l'Italia soprattutto con l'approccio il tessuto sociale che c'è ieri sera stavo guardando a casa un DVD che è appena uscito che si chiama In Transition sul movimento di transizione e c'è un po' di esempi dell'Italia in una piccola città per esempio vicino a Bologna che si chiama Monteveglio che sta facendo tutta una serie di attività per per diventare una città che consuma il meno possibile i risorsi non sostenibili in termini di energia e lo fanno in modo molto bottom up coinvolgendo tutte le cittadine che abitano in Monteveglio ci sono tantissimi in Monteveglio in Italia e secondo me lì la forza italiana è presente come renderlo più come farlo vivere a un livello più alto per me è la sfida è una sfida molto importante per l'Italia e con quello voglio concludere e vi ringrazio per l'attenzione grazie